Dichiaro aperta la seduta di laurea triennale in scienze del turismo per i beni culturali. Vi presento la commissione che è composta da colleghi che conosco e che è correttamente insediata. Il mio lavoro di tesi, come già accennato la professoressa Barrella, ha posto l'attenzione sul museo della città. Per la mia esercitazione finale mi sono occupato dello studio di un gruppo di materiali provenienti da una località del territorio di Ponte Latone nota come Masseria Valle. Quattro secoli di processi, torture e rughi, da 1330 a 1750. Vorrei richiamare tutti i componenti della commissione, soprattutto i candidati. Credo che sono presenti anche tutti i componenti della commissione. Voglio anche dirvi che il sacrificio che fate oggi, la rinuncia alla seduta pubblica, sarà in parte compensato da un'iniziativa che il rettore si è impegnato ad assumere in settembre. Un graduation day, in cui tutti i laureati di questa sessione riceveranno la pergamena di laurea dalle mani dello stesso rettore. E da tutti dico ad maiore. E un applauso della commissione che spero vi giunga anche a questa stanza. Grazie. Grazie.